Che cos'è la tariffa puntuale e che cosa aspetta ai cittadini di Terramani nel prossimo futuro? La tariffa puntuale cerca di recepire tutta la normativa comunitaria italiana e anche regionale. Nel senso che è cambiato il concetto, non si parla più di raccolta differenziata, ma si parla di raccolta circolare che deve creare un sistema virtuoso. Noi attraverso la raccolta puntuale cerchiamo di ridurre al massimo l'indifferenziato. Cosa vuol dire? Che riusciremo attraverso una serie di sistemi elettronici e con dei mastelli con un codice a barre a misurare ciò che il cittadino, l'utente, conferisce in termini di raccolta. Noi riusciremo a capire ciò che va, ciò che non va, avremo le misurazioni a portata di mano quotidianamente. E ciò perché? Perché riuscire ad avere il rifiuto indifferenziato che andiamo a conferire il mercoledì più basso possibile, nel senso che cercheremo in tutti i modi di far capire, anche attraverso premialità, che se si fa una raccolta differenziata in modo costante, vuol dire che ciò che rimane, cioè il rifiuto, il rurre, il rifiuto urbano, il famoso secco, non è nient'altro che ciò che prevede la legge, cioè il 10% di tutto quello che noi riteniamo debba andare non utilizzato. Ed è quello che poi andrà a pagare il cittadino? Sulle tariffe, naturalmente, sulle premialità, ancora dobbiamo effettuare uno studio, nel senso che oggi il nostro primo obiettivo è quello di avviare questo percorso. Naturalmente è un percorso virtuoso, perché? Perché siamo stati finanziati, questo avvio è stato finanziato con i fondi del PNRR, come abbiamo già detto, per cui riusciamo ad avviare questo percorso che sicuramente ci renderà virtuosi e sicuramente ci permetterà di premiare tutti coloro che effettueranno una raccolta differenziata in modo ottimale. Quando partirà? Oggi noi abbiamo già le forniture in ordine, per cui riteniamo che nell'arco di 60 giorni avremo tutti i mastelli da poter consegnare. La partenza sarà dettata dalla consegna dei mastelli con il codice a barre, da una verifica da parte degli ufficitari, dell'attività di consegna e poi cominceremo a fare attività di monitoraggio. Tutto questo avverrà nel corso dell'anno 2024.